Amore, oggi è l'anniversario del nostro primo incontro, te lo ricordi? Che cosa mi regali? Hanno suonato la porta! Grazie amore, grazie, è già arrivato! Oggi però è anche l'anniversario del nostro primo bacio, te lo ricordi? Hanno suonato! Oggi però è anche l'anniversario in cui noi siamo andati per la prima volta al cinema, te lo ricordi? E' arrivato il corriere, è arrivato! Però oggi è anche l'anniversario in cui noi per la prima volta abbiamo fatto una passeggiata, anche perché fino adesso, a parte i regali, non è che...